Volete sentire quanto è brava, stavo per dire cagna, scusa, quanto è brava a recitare la fassina? No, no, l'hai tirato fuori! Sì, 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 sì. Io non ti ho dato l'autorizzazione. La fassina che fa la bambina di The Ring. Dai, ma ero le prime volte! Lo sfogatoio di Radio Peter Pan ora presenta... L'inizio memorabile. Speciale Hollywood. Quello che succede quando i film vengono interpretati nella realtà. Questo può essere un problema. Sette giorni! Sette giorni! E quindi? E poi ti ucciderò. Tutti i miei anni! Allora, l'amande! Allora, l'amande! L'ha presa bene! Hai capito chi sono? Sette giorni! Non sono sette giorni! Tra sette giorni ti ucciderò! Figo! Siamo carichi! Come! Tumbe! E allora quando ti sgozzo esce tutto! Sì, tutto! Sono Samara! La bimbia minchia di The Ring! Ho preso paura, hai impaurito, è lì che trema! No, ma l'ha presa anche bene! Ma non hai un po' paura di me? No! Mi riconoscerai dal becco lungo! Amore! Attento! Ma non ti faccio un po' paura! No! Mi fai ridere! Sono piccola ma sono bastarda! Piccola e soda! Con due belle pompe dure! Che cretino! Alla grande! Allora sei piccola con la patatina bella fresca! Ricordati! Segnatelo in calendario! Fra sette giorni ti ucciderò! Allora! 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 È impazzito? È la notizia! Tu come attrice horror spacchi eh! Eh!